Ci ritroviamo insieme per tornare a fare il punto sulla dimensione sostenibile del turismo con SibTour. Oggi abbiamo con noi il presidente della società italiana professionisti della mobilità e del turismo sostenibile, Federico Massimo Ceschin. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. È sempre un piacere potersi confrontare con te, Federico, soprattutto in questo momento in cui gli eventi a tema si susseguono a un ritmo forse nato e anche tu hai fatto parecchi chilometri in questi giorni. Per cui ti direi, cambiamo un po' le parti, questa volta sei tu che mi conduci. Dove sei stato ultimamente? Ultimamente ho girato un bel po', diciamo sono reduce dalla esperienza straordinaria di forme a Bergamo che in pochi anni è diventato un riferimento europeo per i formaggi. Già il nome è molto evocativo perché forme fa pensare proprio alle forme dei formaggi ma fa pensare anche alle forme, alle modalità, ai modi in cui oggi promuoviamo i prodotti tipici e di conseguenza i territori e le destinazioni. Quindi forme ha proprio questa interessantissima formula nel cuore di Bergamo alta, davvero interessante con centinaia di esperti ma anche di produttori che hanno portato i loro formaggi e inutile dire abbiamo debitamente degustato. E sulla scia di questa bellissima iniziativa ti chiederei di ricordarci perché quest'anno abbiamo scelto volutamente con grande attenzione di legare il tema della sostenibilità a quello del turismo. Perché l'elemento cardine, l'elemento comune è la terra. Per dire Simtour, non perché io voglia parlare di Simtour ma perché in questo caso secondo me aiuta molto a comprendere. nasce nel 2019 sulla scorta di due eventi epocali avvenuti a pochissima distanza tra loro. La pubblicazione dell'enciclica Laudato Si e l'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Maggio la prima, settembre la seconda. Era un momento, è stato un momento nel quale è parso che la sostenibilità potesse diventare veramente un pilastro del nostro modo di vivere, di consumare, di produrre, di viaggiare, di trasportarci, di spostarci nella terra e di recuperare un rapporto con la terra che da un lato significa casa comune e dall'altra significa proprio suolo, significa proprio terra, agricoltura. Una delle cose che mi è capitato di dire nei mesi successivi perché poi siamo entrati nell'era delle pandemie è che con tutto il rispetto per i medici, gli infermieri, la protezione civile, le forze dell'ordine che ci hanno aiutato ad attraversare un momento, un tempo difficilissimo come quello di Covid-19, secondo me non si sono ringraziati abbastanza gli agricoltori, gli allevatori e che ha consentito anche in quel tempo veramente complicato di avere le nostre tavole comunque imbandite e di non avere problemi diciamo dal punto di vista del... quindi ecco è stato un tempo col 2019, 2020 con Covid e oggi con il cambiamento anche della domanda di turismo che non è più quella di prima del souvenir, della cartolina e del visitare i luoghi ma vivere i luoghi e quindi la capacità dei viaggiatori di connettersi con i luoghi e con le comunità locali e dall'altra la capacità delle comunità locali di essere più accoglienti, più ospitali e di consentire di fruire pienamente dei patrimoni materiali e immateriali che abbiamo nei territori. Era probabilmente già un trend positivo in atto, probabilmente anche il momento intenso anche da un punto di vista umano che abbiamo vissuto con il Covid ci ha spinto a un'ulteriore ricerca dell'autenticità e quel viaggio che da sempre è un momento di formazione piccolo o grande che sia forse ci ha insegnato anche a provare a declinarlo nei nostri stessi territori ecco quando facevi riferimento ai produttori locali, il fatto di non poterci muovere più con la leggerezza e la libertà che avevamo sempre sperimentato ci ha portato a scoprire meglio anche quello che ci circonda. Sì, diciamo che il binomio mobilità-libertà l'avevamo un po' dimenticato, più che dimenticato l'avevamo dato per scontato. Il diritto a viaggiare nel Novecento è stato uno dei diritti che l'umanità ha conquistato, dall'altra sappiamo anche però che è stato turismo di massa appunto. Divenendo turismo di massa ha superato alcune soglie di sostenibilità quella che tecnicamente si chiama capacità di carico dei luoghi e in molti casi come nella mia Natale Venezia a Roma, Firenze, in molte città d'arte è diventato un grosso problema quello dell'over turismo di cui molto adesso si parla ma che già da vent'anni in qualche modo era vaticinabile. Oggi dopo la pausa di riflessione, chiamiamola così, determinata dai lockdown c'è molta più attenzione e molta più sensibilità. Quando si dice non tutto il male viene per nuocere, tu non sei venuto con le mani in mano come di tua buona abitudine per cui poi mi racconterai che cosa hai tra le dita. Intanto quello che volevo dire è che tra un evento e l'altro ecco c'è stato un evento, se ne vede all'orizzonte già un altro, infatti dal 7 al 9 novembre ci sarà un evento dal titolo molto bello, tutte le strade portano a Roma dove ci saranno anche dei talk molto interessanti tutti proiettati sul futuro. Dunque c'è un collegamento tra il libro che hai portato e l'evento di cui ho parlato? Sì assolutamente, oltre all'abbinamento cromatico che si può già notare, questo un po' racconta se vogliamo i primi cinque anni di vita di Simtur e lo stato dell'arte diciamo, il modo in cui oggi gli associati e le associate Simtur si posizionano nei rispettivi territori. Il bello di una rete nazionale di professionisti è proprio che ogni professionista è chiamato nel proprio territorio a svolgere una funzione di agente di sviluppo locale, di portavoce della sostenibilità e poi tutti assieme come associazione siamo una voce ormai insomma nazionale che ogni anno si ritrova in questo meeting per fare un po' il punto della situazione. La domanda che ci facciamo è uguale per tutti, è che cosa hai fatto nell'ultimo anno e cosa farai l'anno prossimo? Questo ci consente di sottrarci a quella retorica dei convegni dove si raccontano cose del Novecento, cose fatte nella propria, a volte come nel mio caso, lunga esperienza e di essere molto concreti, molto pragmatici e anche di essere una sorta di osservatorio di politiche pubbliche una sorta di monitoraggio perché se quest'anno io dico che l'anno prossimo farò determinate cose a novembre dell'anno prossimo ti chiederemo di raccontare se le hai fatte, come le hai fatte e con quali risultati e quindi è un momento molto importante soprattutto quest'anno perché in vista del giubileo il meeting nasce nel 2016 con il giubileo della misericordia e per noi è molto molto importante naturalmente il prossimo anno, l'anno santo, proprio perché ecco qui si vede molto molto bene come tutte le strade portano a Roma che da un certo punto di vista significa proprio come le grandi viabilità romana ancora oggi rappresenti un percorso per tornare a Roma dall'altra significa Roma chiaramente come capitale non solo d'Italia ma anche della nostra cultura e della nostra religione e della nostra... di tutto ciò che ci rende gli italiani che siamo ecco, ultimo ma non ultimo il fatto che ho scoperto nell'individuare questo nome che tutte le strade portano a Roma è tradotto in tutte le lingue del mondo da omnes via roman ducunt e quindi dal latino è stato tradotto in tutte le lingue del mondo non solo con lo stesso significato ma anche con lo stesso significante cioè anche in Giappone quando si dice così si dice per dire che ci sono molti modi per fare una cosa e a me questo piace tantissimo perché è proprio vero ci sono molti modi per fare le cose e troppo spesso questo paese si divide tra sopra, sotto, nord e sud, costa, introterra, città e campagna troviamo sempre i motivi di divisione e invece ci sono molti modi per fare le cose significa rallentare, incontrarsi, ragionare, confrontarsi, trovare insieme le soluzioni per rendere conveniente ciò che sappiamo essere giusto e quindi questo è il messaggio di fondo di All Roots Lead to Rome dal 7 al 9 novembre a Verona dentro Fiera Cavalli quindi dentro in realtà un grande evento che accoglierà 150.000 persone e racconteremo dello sviluppo dell'equiturismo, dell'equiraduno, del giubileo e racconteremo appunto tutta questa serie di innovazioni che gli associati e le associate Sintur continuano a proporre e a portare nei territori Federico io ti ringrazio di cuore anche perché è con te che abbiamo siglato questa bella collaborazione quest'anno che poi si è tradotta in questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia che facciamo ogni lunedì esplorando proprio tante volte quell'Italia nascosta, meno conosciuta ecco quel turismo autentico che stiamo finalmente riscoprendo con maggiore consapevolezza ed è bello che questo percorso di formazione sia fatto grazie al vostro lavoro non solo a favore dei viaggiatori ma anche di chi li accoglie passaggio fondamentale su cui potremmo chiudere questa chiacchierata grazie di cuore, grazie bene, allora l'appuntamento è come anticipato a lunedì prossimo per continuare questo nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia per scoprire tante altre mete, tante altre destinazioni per poter comprendere appieno facendone esperienza di come si può essere sostenibili anche durante le nostre vacanze il nostro tempo libero grazie Federico grazie a te e grazie a voi a prestissimo a presto linea alla regia e buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV grazie a te e grazie a te grazie a te e grazie a te